e buongiorno eccoci goccioline goccioline mia sì me l'avete detto adesso chissà quanto staranno a menarcela con sta storia finché loro ce la menano con questa storia ecco che io ancora parlerò del lazaro e lazaro che si sono tornati ancora una volta allora si comincia e già si alza e io penso che un altro bruciore di nuovo non puoi stare fermo a no no ha preso l'acqua le belle abitudini di una volta e saluta anche se non vede nessuno e suoi posto mi incerta dopo quello che è passato chi è che non lo capisce chiedono come stai il peggio è passato a quanto pare a quanto pare un utente e quando ci parlerà la signora lazaro madre della sua esperienza no 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 non racconta niente prima deve avere i risultati e poi in una bella live tutta sua non ve l'aspettavate che cosa condividi la bella live tutta sua c'è uno che scrive come state lui vorrebbe spiegazioni cioè che sui postumi come state a no no ha letto male tutto nella norma come l'avete presa questo ascesso sarebbe un terno all'otto sapere come l'abbiamo preso ma che io dico una quaterna no no una cinquina una cinquina sicura 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 nessuno ha una spiegazione mai di come avvengono i contagi io direi chiamiamo i servizi segreti lo informano no non ce la posso fare ascoltate lo informano che domani ci sarà la seconda prova scritta alla maturità manca a dirvi che ovviamente non lo sapeva ma sentiamo la risposta invece auguri allora a tutti i nuovi infermieri si ferma si corregge quali infermieri ai nuovi medici i medici medici si è confuso con l'università da quanto in quanto tu esci dall'università medico se non frequenti medicina saresti dottore perché sono andata all'università io perché ed ecco spiegato perché non è diventato il grande oratore che doveva diventare perché non ha dato gli esami di maturità sentite ma non potete fargli rifare così una cosa veloce comunque nessuno dice niente perché qual è il focus della giornata bisogna andare con le ipotesi no ci tiene a precisarlo tu non potrai mai sapere da chi lo prendi il medico non ci posso pensare il medico mai lo potrai sapere da chi lo prendi non lo sa nessuno nessuno interviene la signora la la lazzaro lazzaro madre e dice una cosa non è una cosa divertente quello che loro hanno avuto ma tu pensa quelli che sono al cimitero invece tu pensa invece di fare video in cui non vuoi neanche parlarne aspetti la live tua per parlarne pensa quanto si sono divertiti quelli vabbè no poi ammette che sono stati fortunati e la spiegazione ha dell'incredibile allora l'ascesso ora è molto virulento cioè molto aggressivo che fa male ma continua quindi è molto virulento ma con una carica meno non come all'inizio che tante persone ci hanno lasciato la vita allora non si dice che è più virulento è più contagioso è più contagioso sto cavolo di ascesso va bene no no vabbè sempre sarò io che sbaglio certo sono io ma lui ecco che ha trovato finalmente il colpevole il decreto viaggio che hanno tolto tutti i divieti e quindi ovvio è il governo ladro che ci vuole tutti i morti ma non era quello tutto felice perché finalmente non serviva più il green pass ricordo male ma vabbè giusto giusto i postumi i postumi ricordatelo onda ricordatelo i postumi almeno lei dice di essere fortunata almeno lei però sempre aspettiamo c'è qualcuno che chiede se può parlare ed è bellissimo anche se il suo parere è un po contrario al quello di lui no lui non sopporta che ci sia persone ci siano persone che parlano senza avere nessuna cognizione di quello che dicono diciamo parla di sé ma veramente stai facendo allora bisogna usare delle precauzioni adesso ha deciso forse di fare qualcosa di diverso no adesso è sempre più sicuro che il virus il vaccino anti ascesso non lo farà perché niente non gli entra in testa che se si fa il vaccino lo prende in una forma minore no lui vuole un vaccino che non gli faccia venire più glielo assicuri nessun ascesso niente ci provano tutti ma non lo capisce e quindi che cosa si fa si incomincia a bannare di qua bannare di là e con quello che è successo si è convinto ancora di più giusto che bello qualcuno poi dice pure ma adesso dopo quello che è passato non pensi che potresti fare una vita un po' più salutare cambiare uno stile di vita più sano ecco io eviterei certe domande aveva il tempo o la voglia di mangiare di notte o fumare non di teresia per non dire un'altra parola che min e poi ate certo la volgarità perché ce la dobbiamo fare mancare a te entra qualcosa se ho uno stile di vita più sano non devo dire a te che cosa devo fare ma non bastava un sì o un no così cosa ti paglia eh cosa ti paglia eh non finiscono più eh bannano 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 eh sì soprattutto perché non capisce perché è successo questo in questo momento cioè quando sono morti tutti no andava tutto bene non doveva succedere adesso a loro perché il problema è quello a loro a loro che è successo sì sì lei ci prova la la zero madre a dire di non bannare ma poi si scatena pure lei si scatena ed è una cosa no lei non ce la fa sopportare attenzione chi non sopporta le persone che attenti sono incattivite questi che si fanno i soldi su di loro sulla malattia youtuber che lo fanno da anni allora non sono youtuber non lo faccio da anni io non c'entro giusto io non c'entro ma che non meritano neanche il suo sputo mazza io sto pensando sempre a quelli che si fanno i soldi sulla malattia gli altri eh gli altri non lei che un pezzo te lo dice adesso l'altro nell'altra live quella sua personalizzata devo parlare di tutto quello che ha sentito minuto per minuto che cosa mangiava che cosa non mangiava esattamente che cosa si sentiva le volte in cui l'ha detto eh l'ha detto riusciva addirittura ad usare il cellulare non ce ne eravamo accorti tutti se li è girati i canali tutti 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 e vai quando non si girava i canali stava lì a parlare con utenti dicendo che pericolonda è brutta e cattiva pericolonda si stava facendo chili e chili di fatti suoi e lavorava al contrario di quello che si fa in quella casa in casa lazzaro ma lei no ve l'ho detto è l'ossessione i lazzaro sono così non te li schia di più di dosso sono così sono così intanto parla di tonsille e dice che in tutto questo lei ringrazia di aver avuto le tonsille che comunque le hanno consentito di mettere un freno cioè di tenere lontano l'invasione barbarica due palle così ah l'ha detto lei eh no no io non c'entro niente l'ha detto lei io riporto lui a sto punto si alza annuncia che tra poco chiuderà si vede che è interessatissimo alla cosa se ne va poi ritorna per chiudere di che parlano gli altri allora uno parla di piscine soldi spesi per le vacanze ricette di frappe andare in val d'aosta che in emilia romagna non si respira o bisognerebbe smettere di mangiare carne e lì interviene lei la lazzaro madre per dire che come si fa a vivere da vegetariani e se lo dice lei per carità sì questi sono gli utenti affezionati i carissimi utenti che sono tanto interessati nessuno che parli di temperature ah sì sì devo essere sincera sì parlano di temperature ma di clima dicendo che c'è un caldo of the madden diciamocelo e che non si sopporta più ma ecco che ritorna lui bisogna chiudere stato bello durato poco ma è stato bello no in realtà è durato tanto 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 però lei sentiva questo bisogno di ritrovarsi tutti uniti tutti uniti e io vi sto chiedendo adesso ve lo chiedo perché devo chiederle queste cose uno ma veramente ancora devono fare io so che c'è stata lei la lazzaro figlia e moglie che ha fatto pure una live per aggiornare tutti sui suoi progressi non lo so spero che stia meglio io non l'ho vista non l'ho sentita né ho voglia nessuna voglia di farlo perché tanto le dicono loro io non sto a guardare l'uno e l'altro certo con ad block non regalo un centesimo però già vi siete presi la visualizzazione vi basta e va avanza ma avete notato che ad esempio i grandi amici no ricordate i grandi amici mezza parola di non lo so conforto niente tutti spariti gli ex moderatori i moderatori che erano messi là ora si c'è sempre ma gli altri manca scrivere mi complimento sono contenta per te niente sono contento per te hai bisogno di qualcosa visto che magari i vestiti te li compravo hai bisogno di qualcos'altro no ma siamo sempre noi quelli strani siamo sempre noi siamo noi che non ci preoccupiamo di loro con tutte le cose che fanno quanto si interessano degli altri come si fanno a preoccuparsi di loro loro che osano puntare il dito contro gli altri perché gli altri fanno i soldi come meno su le malattie loro gli altri non loro che stanno facendo il racconto puntate io non ce l'ho fatta a seguirla bene perché veramente non si poteva è una cosa che va oltre ho letto quello che mi avete scritto che vi devo dire io ringrazio tanto chi mi ha parlato di problemi seri che ha avuto e quindi il mio pensiero va principalmente a franca franca mi permetto di fare il tuo nome perché se no non darei il giusto peso a quello ti ringrazio infinitamente non cancellare nulla nulla di quello che hai scritto se avrò tempo oggi stesso ti risponderò devo andare a correggere i compiti però quello che hai scritto è toccante tu non hai idea quanto questa è la sofferenza questo è ciò che le persone soffrono veramente e in silenzio così come chi mi ha parlato di tumore chi mi ha parlato di altre malattie nel corso della vita vi abbraccio tutti tutti senza la retorica del cuore e tutte queste cose ma come con tutta me stessa non così non così e io non metto la pubblicità grazie grazie infinite per essere stati pazienti esserci ritrovati insieme spero di avervi regalato un sorriso anche se in effetti in questa storia da sorridere c'è veramente poco però proviamoci baci 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 braun Grazie.